Tra qualche tempo non diremo più il vino, ma diremo la squadra. Il racconto di Campus Masterclass continua. Forse vale la pena di far vedere la vita. Perfetto, molto bene. Ancora altri atleti, altre storie da raccontare. Tu devi fare una scelta. Segui tutta la serie su web e in televisione. Campus Masterclass.